Salve a tutti, io sono TheOfficialVideogames e benvenuti su SlimeRancher. Allora, non l'ho mai provato, ma ci vorrei fare qualche episodio. So che è abbastanza puccioso come gioco, ovvero avremo a che fare con degli slime e gestire il nostro ranch. Ma nel frattempo possiamo scoprire gli stili segreti di tutti i nostri slime preferiti. Pertanto, gli stili segreti sono un nuovo tipo di tecnologia che ci consente di dare ai nostri slime in aspetto nuovo e fresco. Inoltre, dobbiamo cercare capsule del tesoro in tutto il range e scoprire lo stile segreto unico di ogni slime. Quindi, buona visione! Ed eccoci qua. Allora, il gioco purtroppo, ragazzi, è in inglese, quindi cercherò di capire qualche cosa. Ed eccoci qua. Allora, possiamo muoverci con i tasti WASD, se lo so Ciccio. Non è la prima volta che gioco ad un gioco del genere. So come ci si muove, per l'appunto, all'interno di un gameplay, di un videogioco. Allora, eccoci qua. Perfetto, contento Ciccio, che mi ci sono mosso con i tasti WASD. Allora, abbiamo un'email. Opto hit. Salta su. Allora, barra spaziatrice per saltare e credo che con hold shift, ovvero con ok. Perfetto, quindi perciò possiamo anche correre. Ah, con il tasto destro diciamo che abbiamo un'aspirazione per poter aspirare i nostri, credo, slime. Ah, ciao slime, vieni qui con me. Oh, dai, che bello, ma veramente? Ma è una figata pazzesca. Allora, abbiamo lo slime rosa, che per l'appunto dobbiamo buttare in queste grosse vasche, diciamo così, ecco. Allora, se io faccio così... Oh, no, 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 Tospa, oddio. Oh, no. Ma è morto? Allora, aspettate panico. Vieni qua Ciccio, perfetto. Tu sei qua, vieni a casa con me, ti porterò lontano, perché... Allora, da quello che ho capito, mi sa che hanno aggiunto anche degli slime mela, se non vado errato, eh, se non vado errato. Allora, vediamo un po'. Eh, sì, dovrei buttarlo, credo, qua. Ah, ok, perfetto, quindi va benissimo, va benissimo. Poi posso selezionare per l'appunto la vasca, quindi abbiamo ben quattro vasche. Ciao Ciccio, tutto bene? Come va? Qua invece che cos'è che possiamo fare? Ah, qua possiamo andare a modificare per l'appunto la nostra vasca contenente gli slime. Quindi possiamo aumentare la capacità, ovvero mettere un'altra sezione di vasca sopra per eventuali slime. Quindi se man mano andiamo avanti, che espandiamo per l'appunto i nostri slime, possiamo andare anche ad espandere la nostra vasca. Poi mettere della musica, mettere della higher net, che dovrebbe essere una rete d'aria. Poi abbiamo dei, credo che dovrebbero essere dei pannelli solari. Anzi, protezione solare. Una porta. Ah, quindi per poter sparare, credo, gli slime all'interno di questa porticina. Autofeed. Dovrebbe essere alimentazione automatica. E poi demolire il plot. Ah, ecco, sì, si chiamano i plot. Ok, perfetto. Quindi adesso dobbiamo andare alla ricerca per l'appunto di slime. Credo questi qua viola. Ah, sì, il pink. Perfetto. Quindi vai, buttalo qua dentro. Ok, quindi ce ne abbiamo già un paio. Quindi più ne saranno, meglio sarà. E da quello che ho capito, mi sa che possiamo fare le monetine vendendo la loro cacca. Sì, vendendo la loro cacca qua da qualche parte, non lo so. Sì, dovrebbe essere qua. Allora, abbiamo la cacca dei slime rosa. La cacca dei slime che questi qua non abbiamo ancora conosciuto. Insomma, ragazzi, abbiamo una marea di slime. Dai, su. Peccato soltanto che il gioco, per l'appunto, è in inglese. Quindi non capirò poi così tantissimo, eh. Allora, qua possiamo attivare 1795 punti. Ah, ok. Quindi meglio di no, meglio di no. Ciao slime, vieni qua, vieni qua con papino. Ok, perfetto. Quindi, oh, oddio, guardate qua, guardate qua, guardate qua. Quante boie ce n'è stato. Vieni, venite qui con me. Vi porterò lontano, perché? Anzi, vi porterò nella vostra bella basetta. Allora, abbiamo i pink slime, ovvero gli slime a viola. Dovrebbero essere viola, quindi ne abbiamo ancora 15 per adesso. E tra l'altro... Oddio, ma è veramente tanto, 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 puccioso. Dove vai? Mi venghi qui, buon uomo? Scusi, e che cos'è? Mannaccia, te, manaccia. Ok, sì. Da quello che ho capito possiamo anche andare... Oh, 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 oh. Ho capito che siete veramente tanto, 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 pucciosi. Però, e che cos'è? E dai, no. Ah, ma non posso riempire più di uno slot. No, da quello che ho capito mi sa proprio di no. Non posso riempire più di uno slot. No, non posso riempire più di uno slot. Mannaccia, la miseria, manaccia. Eh, non lo sapevo, ragazzi, che non potevo riempire più di uno slot. Ah, e vabbè, pazienza, dai, su. Allora, abbiamo anche una nuova email. Giorno 1 su 1.13. Vai, 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 vai. Butta tutto quanto dentro. Ok, perfetto. E adesso cerchiamo di capire cose. Allora, dato che questi qua di sicuro mi devono fare anche la cacca, ma io posso entrare? Sì, ci posso entrare. Vediamo un po' che abbiamo anche una email. Vediamo un po' com'è che si fanno a leggere le email. Allora, abbiamo una vasta zona di mappa con gli slime, per l'appunto, del Far Ranger. Allora, vediamo un po' se io vado qui. Ok. Start mail. Eccola qua. Allora, Rise and Shine. Kasei. Hibea. Ok. Poi abbiamo Secret Steel is Missing. Welcome to Far Ranger. Ok. Quindi, vediamo un po'. Return a... Ovvero, ritorniamo al Ranch. Allora, vediamo un po' ragazzi che cos'è che dobbiamo fare peraltro, peraltro. Allora, dato che abbiamo per l'appunto un 250 punti, questo qua per l'appunto costa 350. Vediamo ragazzi, e vediamo anche perché comunque sia sono curioso di sapere che cos'è che devo fare. Abbastanza curio... Abbastanza curio... Ma veramente, sì, sono abbastanza curioso ragazzi, e sono abbastanza curioso. Allora, andiamo a vedere un po' veramente che cos'è che devo fare. Dieta. Come sarebbe a dire che fanno la dieta di tutto. Ah, quindi questi qua stanno a dieta. Benissimo, perfetto. Beati loro. Io invece no. Allora, vediamo un po' qui che cos'è. Allora, Range. Ah, cavolo, questo qua è offline. Ok. Oh, ci abbiamo... Ci abbiamo un pulcino? Ma serio? Ma veramente? Ma ci abbiamo... No, dai, ma ci abbiamo i pulcini. Ci abbiamo le galline pure. Oddio. Oddio, no, ci abbiamo... Ah, quindi... Ma possiamo darli agli slime? Quindi, da quello che ho capito, possiamo anche piantare le robe. Quindi abbiamo del cibo gustoso per, credo, i nostri slime viola, che dovrebbero essere, per l'appunto, le galline, giusto? Ah, oddio, veramente? Ah, ok, quindi gli diamo... Ecco qui la cacca. No, 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 volevo soltanto la cacca, maledetti, volevo soltanto la vostra cacca. Ehm, come detto, la cacca si dovrebbe vendere qui, per l'appunto, che va per l'appunto a 8. Ehm, sì, ovvero la cacca, i plort, quindi questi qua sono i plort, quindi io ti sparo qua dentro e mi vengono dati 258. Ah, ok, quindi perciò più roba troviamo e meglio sarà per i nostri slime. Quindi devo trovare delle galline. Benissimo, perfetto. Quindi dovrei anche riguardare le copertine, ok. Quindi devo andare anche alla ricerca di galline, però da quello che ho capito... Eccola, 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 eccola. Quindi da quello che ho capito mi sa che possiamo anche allevare le galline. Uh, ma qua ci abbiamo un plort. Sì, qua ci abbiamo un plort, ok. Quindi più plort sono, meglio sarà. Oh, 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 eh. Mi scusi, buon uomo, gallo. Ah, 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 oddio. Rostro, dovrebbe essere un gallo. Sì, ma il gallo, per l'appunto, lo possiamo dare allo slime? Ah, credo proprio di no. Credo proprio di no. Top, magnate, rip... Oh, 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 oddio. Grazie per la sua bella cacchina. Oh, anche per la sua bellissima altra cacchina. Grazie. Quindi abbiamo ben tre plort. Ok, però questi qua iniziano a saltellare un po' in giro. Eh sì, ragazzi, sto iniziando per l'appunto a capire anche io com'è che si gioca. Quindi dobbiamo fare in modo che i nostri slime, per l'appunto, vadano in men che non si dica a riprodursi e quant'altro. Vediamo, e a parte il fatto che comunque sia possiamo anche costruire anche gli altri ranch qui intorno. Però da quello che avevo visto dai trailer, eccetera, eccetera, mi sa che possiamo anche allevare, ovvero piantare, della frutta per i nostri slime. Quindi, oddio, carote? Ma ci abbiamo anche le carote? Oddio, oddio, no, le carote per gli slime, credo. Sì, ci abbiamo... oddio, guardate qua, guardate qua. Cioè, ci abbiamo l'infinità e oltre, per l'appunto. Cacca, vieni da papino. Se mi levo... oddio, oddio, no. Aspetta, allora, lasciamo andare questo qua, il pulcino, per adesso. Scusi, buon uomo. E che cos'è? Mi ci dia tutta quanta la sua cacchina. E vediamo un po' che cos'è... Ah, aspettate, ma non è che forse magari posso piantare... Dovrebbe essere il melograno. Guarda, oh, bellissimi, guardate qua. Oddio, no, questo qua ma si è trasformato? Ma veramente? Cioè, ci abbiamo cacca infinita qui, allora. Eh già, ci ha... Oh, dove vai, ciccio? Vieni qua. Ah, ci abbiamo cacca infinita. Ci abbiamo i plort infiniti, guardate qua che roba. Cioè, guardate qua che roba. Cioè, quindi io posso andare a vendere tutta quanta questa roba. Guardate qua il melograno. Dovrebbe essere... No, 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 no. Dove vai, dove vai, dove vai? Strunz, vieni qua. Eh, da quello che ho capito, mi sa che possiamo piantare anche questa roba. Sì, da quello che... Oh, guardate qua quanti plort che ci sono. Oddio, no. No, 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 no. Ma non ci credo mai nella vita, ma non ci credo mai nella vita. Guardate un po' quanti plort che ci abbiamo qua a terra. Oddio, veramente una marea di plort però, eh. A parte il fatto che comunque sia ok, va benissimo, ottimo. Sì, ci stanno una marea di plort e ci stanno anche una marea di slime diversi. Uh, diversi gli uni dagli altri. Però, da quello che ho capito, questi qua non ci fanno assolutamente niente. Ma perché... Oddio, quanto sei giganterrimo. Oddio. Oh, 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 oh. Tu che cos'è che sei? Ok. Va bene, poi dopo scopriamo tutto quanto per benino insieme. Sta calando anche la notte, però da qua... Oddio, lo sprint è veramente qualcosa di impressionante. Vediamo un po' se posso dare uno di que... Oh, veramente? Oddio, no, mi hanno dato gli altri plort. Quindi, da quello che deduco, che sto vedendo per l'appunto, andiamo a vendere questi plort. Ok, quindi abbiamo fruttato ben 434. Però, vediamo un po' anche se riusciamo a... Non credo che possiamo... No, non possiamo... Credo che non possiamo piantare. Allora, aspettate un po' una roba. Però io, comunque sia, dato che mi ci devo anche ampliare adesso con tutta quanta la roba... Vediamo un po'. Corallo. Vediamo un po'. Ah, ecco. Quindi qui possiamo creare, per l'appunto, il giardino, il silo, inceneritore. Ok. Allora, coral, ovvero il, diciamo, tra virgolette, il recipiente dello slime, per l'appunto. E, vediamo un po'. Vediamo un po'. Volevo anche piantare un po' di roba. Quindi, se faccio... Costruisci, credo che dovrebbe... Ah, ok. Quindi è così. Quindi io posso piantare, per l'appunto... Ah, una carota per volta. Ma mi pigli per culo? Ah, ah, ah... Ah, ok, perfetto. Va benissimo. Ah, quindi, allora, aspettate. Facciamo così. Diamo questa roba ai... Ai slime. E ci pigliamo, per l'appunto, la cacca. Ovvero, il... I plort. Scusate, non era cacca. Ma erano soltanto i plort. Allora, lasciamo altri plort qua. Perfetto, ok. E andiamoci a vendere quest'altra cacchina. Ok. Ecco qua. Ottimo. Quindi abbiamo ben 200. Però, ovviamente, ragazzi, più ne sono, meglio sarà. Quindi più... Guardali. Guardali. Maledetti. Scusi, buon uomo. Che cosa mi sta facendo lei qua? Eh, e che cos'è? Va da dentro. E che cos'è? Maleducato, maleducato. Ehm... Credo che forse, magari, mi dovrebbe avvisare lui il gioco quando sono... Per l'appunto... Guardali. Guardali, sti maledetti. Guardali. Maledetti. Allora, vediamo un po'. Ehm... Vediamo, vediamo, vediamo. Questo qua costa ben 350. Però, eh, volevo andare, per l'appunto, alla ricerca di, ehm... Di altri plort. Perché più plort abbiamo e meglio sarà per tutti. Anche perché, comunque, sia... Eh, ci dà la possibilità, per l'appunto, di ampliare il nostro range. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh, sono quasi tentato da costruire un altro range. Ci abbiamo una marea di robe. Ma non ci abbiamo più plort? Ma non mi dite mai. Ma non mi dite mai. Mai, 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 mai. Andiamo alla ricerca di un po' di altri... Oddio. Oddio, ho trovato il paradiso. Oh, eh. Salve, buongiorno, eh. Ah, sì, certo. Come no? Eh, oddio, quello là, là sotto là che si è trasformato. Guardali, guardali. Madonne, Santi. Eh, così? Gallina? Mi vengi qui? Grazie. Sì, abbiamo anche gli slime gatto, per chi se lo stesse chiedendo. Il pulcino pio. Eh, scusate, la gallina. Eh, sì, abbiamo una marea di robe, ragazzi, eh. Guardate qua. Che per adesso... Oh. Oh. Oddio, no, mi ha dato... Che cos'è che mi ha dato? Un... Uno slime metallo. Metallico? Ma veramente? Ma state scherzando? Oddio. Oddio. C'è, no? Ma dai, ragazzi, ma è veramente... Oh, guardate qua, ma è veramente tanto, 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 tanto puccioso. Sì, ragazzi, è veramente tanto, 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 ma tanto puccioso. Aspettate, perché abbiamo la cacca di questi altri, ovvero i plort di questi. Ok, quindi, perciò, razzi a tutto. Oddio. Oh, mamma mia. Vediamo un po' i plort del... Di un altro tipo di... Oh, 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 questo qua, che cos'è? No, 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 no. Non ho capito che cavolo sia quello là, quindi meglio darsela. Meglio... Ma quello là, da quello che ho capito, mi sa che dovrebbe uccidere gli slime. Se no... Ah, no, cacchio, non c'ho più posto. Dicevo, quello là dovrebbe essere... Oddio, no, ma ho perso la strada di casa. Ah, no, eccola qua. Dicevo quello lì dovrebbe essere per l'appunto uno slime cattivo che mangia gli slime Dovrebbe essere così adesso non vorrei dire nacafonata ma dovrebbe essere più o meno quasi così Allora andiamoci a vendere gli altri plort Ciao buon uomo eh scusi eh Loading me ma ma no ma ma che cosa è successo Ah ok quindi perciò oddio no è sceso il plort oddio no Però questo qua per l'appunto vale ben 16 quindi abbiamo 232 E non è che ci faccia poi così tantissimo però ragazzi eh Lasciatevelo dire Oh magnate bevete riproducetevi toh ecco qua perfetto Allora altri altri plort per papino lascia questi altri due plort per l'appunto ce li abbiamo E ci abbiamo anche questo ok perfetto Olè ottimo 250 Quanto è che costava per l'appunto il ranch per gli slime? Perché vorrei o espanderli oppure magari Ma qua mi dice cose? Perché scusate non crescono? Forse magari sta tanto per poter crescere? Mmm non lo so sarebbe un po' ambigua come cosa Vediamo un po' eh vediamo un po' Eh si ragazzi è tutto da scoprire Allora magnate e riproducetevi Vediamo un po' se magnano anche le carote Sì magnano anche le carote e anche il melograno Perfetto ok Quindi ci abbiamo una marea di plort E da quello che ho capito mi sa che Dando per l'appunto altri tipi di slime A un altro tipo di slime si possono anche clonare Quindi far uscire per esempio uno slime diverso dagli altri Quindi andiamoci a vendere questi qua Ok Altra Altra popò degli slime Che ci frutteranno un bel po' di soldi Top Pigliati tutto quanto questo Perfetto 328 Ottimo Allora dato che Eh di qua ce ne abbiamo Però però Vediamo un po' quanto è che mi costa un altro Eh di questo 250 Ok Quindi eccolo qua Però volevo prendere gli altri slime nuovi Ovvero quelli là che Ehm Ehm Dove che erano? Dove che erano? Dove che erano? Che non mi ricordo mi sa di qua Ehm Quelli là Colorati Ecco per l'appunto Quelli là colorati Volevo prendere Ovvero quelli là Ehm Questi qua qua sotto Questi Ecco Ehm Volevo pigliare già questi qua Che sono Un Uno slime porporoso Dovrebbe essere Ecco Chiamato così Volgarmente Ok Ce ne abbiamo ben tre Va benissimo Vediamo un po' ragazzi Se ne trovi Eccolo Eccolo Vieni qua maledetto Ehm Sì ragazzi No veramente tanto tanto puccioso Però eh Eh già Ma veramente tanto Tanta tanto tanto puccioso E poi c'abbiamo lo slime Quello gigantissimo Che eh Si evolve per l'appunto Dandogli da mangiare Credo che sia così ragazzi Eh Mo non fatemi dire Le cafonate Ma non conosco benissimo Questo gioco Quindi Ci sto giochicchiando Per adesso Per la primissima volta Vieni qua Vieni qua maledetto Oddio Oddio no Guardalo Guarda Oddio No No Ma che cacchio fa Oddio no Ma quello la grosso più grosso Non li posso prendere Oddio Ma guarda un po' te Ah sì Quindi mettendo Uno slime Uno slime Viola E uno slime gatto Posso creare Lo slime gatto E questo qua Non ho capito Come voglia Si faccia fare fuori Ecco Per l'appunto Questo qua È quello lì Perché si mangia gli slime E più se li mangia E più diventa grosso E si sdoppia Benissimo 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 Scusi Buono Ma no Ma vada via lei Ma che cos'è Allora abbiamo Ben sette slime Porporosi Ecco Diciamo così Tra virgolette Porporosi Che poi non sono nemmeno Tanto porporosi Ma Aia Maledetto Strunt No 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 Poi dopo scopriremo Anche come far fuori Questi slime cattivi Promesso Oh No Mannaggia la miseria Venite qua Venite qua Vieni qua Dove vai Lascia la cacca del signore Che cos'è Maledetto Allora Andiamo Per l'appunto Guarda lì Guarda lì L'uno sull'altro Maledetti Allora Andiamoci a vendere Ovvero Andiamo a mettere Questi nuovi slime All'interno Del Del nuovo ranch E poi dopo Vediamo anche come Per l'appunto Far Ovvero Dar da mangiare A questi Perché non è che so Che cos'è che si mangiano Questi Se si mangiano Tutti quanti la stessa Tutti quanti la stessa roba Ovvero Frutta E Eccetera Eccetera Oh qua è quasi cresciuto Ok ottimo Perfetto Allora Numero uno Vai Buttami i slime Qua dentro E andiamoci a vendere I plort Ok Salve 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 Buongiorno Allora Sei Perfetto Questo qua Più questo qua E più questo qua 135 Sì Va bene Va bene Ottimo Perfetto Allora Vediamo un po' ragazzi E vediamo Cerchiamo di capire Guardali 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 Masti maledetti Masti maleducati Maleducati che non siete altro Ma venite qua Ma dov'è che mi volete andare Ma perché ve ne scappate tutti quanti per altro Voglio dire no Ma guarda questi qua Dove andate Dov'è che state andando Buonuomini Scusate Che cos'è Ho capito che è giorno Però Ma non è che forse non ci stanno qui dentro il Il ranch qua Cioè Che poi non ho capito come boia se ne fanno ad uscire Ho capito che comunque sia Non c'è per l'appunto Guardali Guardali come se ne scappa Maledetto Maledetto Guardali Maledetti Ma sti maleducati Maleducati Ma perché se ne scappano Oh dai No ma veramente Ma state scherzà Ma guardali Guardali come se ne escono Da qua Maledetto Maledetto Vieni qua Maledetto Eh sì Vabbè Però cavolo Ma una cavolo di prova La devo proprio far raga Eh già Ma con uno slime di questo Lo volevo dare A uno di questo Vediamo un po' Che cavolo Che succede Se se lo magnano Eh No Non credo che succeda niente Ok Quindi Ci abbiamo Uno slime Che non ci vuole stare All'interno Di questa roba Maledizione a voi E qua Credo che le carute Sono quasi Quasi pronte Quasi pronte Ci abbiamo Ben 135 Ma per Eh Mannaccia La miseria Mannaccia Ma perché se ne sono scappati Sti maledetti Maledetto Maledetto Proprio il rispetto Non ce n'è Per chi fa video Mannaccia A voi Mannaccia Eh vabbè Qua ho capito Che qua è bloccato Ma vabbè Ma vabbè Poco male Poco male Vediamo Allora Cerchiamo di capire Ragazzi Perché Non dico che Non mi piace Anzi Mi piace E come se mi piace Non dico certo di no Però voglio cercare anche Di capire Come andare avanti Allora Qua che cos'è che abbiamo Plort market Sì che possiamo Ah Ok Va bene Quindi Va benissimo Da quello che ho capito Mi sa che possiamo Potenziare anche La nostra arma Vediamo un po' Ah ecco Possiamo aggiungere Dell'acqua Alla nostra Arma Vita extra Dovrebbe essere Ricarica Dovrebbe essere Una ricarica extra Power core Più 150 di energia E questo qua Dovrebbe essere Tank boost Una tanica Più grande Credo Credo ragazzi E non fatemi dire Caffonate Perché non lo so Non lo so E ok dai ragazzi Allora io direi quasi quasi Di completare qui Questo primo appuntamento Della serie di slime rancher Spero innanzitutto Che questo primo appuntamento Vi sia piaciuto E se così mi raccomando Vi invito a lasciare like A commentare questo video Ad iscrivervi al canale E attivare la campanellina Per ulteriori informazioni E noi ci rivedremo In un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti